Tragedia sui monti Bucegi, a sud di Brazov, in Romania. Una donna impegnata in un'escursione naturalistica è morta dopo essere stata attaccata da un orso. Secondo la prima ricostruzione, il plantigrado apparso all'improvviso lungo il sentiero prima ha afferrato la turista 19enne, poi l'ha trascinata nel bosco, infine l'ha uccisa. A ritrovare il suo corpo martoriato è stata la polizia dopo aver abbattuto l'animale. Ben 8.000 gli orsi bruni stimati sui carpazzi, proprio per questo il ministro dell'ambiente della Romania, Mircea Fechet, ha chiesto l'uccisione degli esemplari considerati in eccesso.